Siamo qui, gara appena terminata, calcio a 5, molto avvincente, terminata con un solo gol di differenza tra Benevento e Cosenza. Partiamo dagli sconfitti, lungo, bella partita, però purtroppo non ce l'avete fatta nemmeno da guantare il parigi come giunti di prestazione. Il primo tempo abbiamo sofferto, anche il secondo tempo, ma ci siamo rari da fare, ma... Forse troppo tardi. Troppo tardi. Quindi, cosa c'è da aggiustare per la prossima partita, anzi, per la prossima? La difesa, per aggiustare la squadra. La difesa in primis? Ok. Passiamo qui con il capitano, Mastrelli, vittoria sofferta, un buon primo tempo, una buona partenza, nella ripresa siete calati, cosa avrei mancato per mettere a sicuro il punto di gioco? Ci è mancato un po' di forza, insomma, siamo un po' ostanti. La partita scorsa abbiamo perso troppo, 6-1, ma meritatamente perché noi abbiamo giocato soltanto che abbiamo perso le posizioni. Non c'erano più posizioni per una sola mancanza di un giocatore. Questo non è accettabile. Bisogna perdere, fanno 6-1. Bisogna perdere 2-3. 0-0, ci siamo proprio demoliti la partita scorsa. Finalmente ora siamo ritornati a una vittoria, sofferta. Complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una bella partita, 6-5. Dobbiamo migliorare ancora, questo è poco. Obiettivi futuri? Obiettivi futuri. Dobbiamo vincere questa fornì. Ok, in bocca al lupo nel proseguo. Grazie. Grazie.